Trovate molto interessante e qui il distributore, ora vediamo che stanno facendo il gasolio e il gasolio arriva dalla sopra, le pompe sono sopra invece che sotto per questione di sicurezza, questo è inimmaginabile in Europa o in un altro paese, guarda, ora quello abbasserà la pompa per poter fare il pieno, guarda, questo è delle cose più strane e più sicure che ci sono.